Musica Salve, benvenuti e bentornati a Campania Tube Channel. Oggi siamo con Sofia Iacobucci di Altaville Irpina, una poetessa pluripremiata. Ecco, le chiedo di presentarsi brevemente alla telecamera. Buonasera, innanzitutto è doveroso fare un ringraziamento alla direzione del Royal Hotel Montevergine che oggi ci ospita e un ringraziamento particolare alla dottoressa Giuseppina Serignano e al signor Sebastiano che ci hanno offerto insomma questo posto meraviglioso in cui realizzare questa intervista. Voglio spendere due parole su questa struttura che mi è molto cara. Una struttura che si trova a due passi dal santuario di Montevergine dove vi invito a venire numerosi per una pausa di benessere, per una fuga dal caos quotidiano. Un hotel dedicato sia al benessere di coppia con dei percorsi spa, delle suite, con vaschedro massaggio ma anche alle famiglie con un fantastico playground a disposizione dei più piccoli e un ristorante dove potrete gustare le nostre specialità tipiche della Verde Irpinia. Quindi vi invito veramente a visitare questa bellissima struttura, il Royal Hotel Montevergine. Detto questo, per parlare del mio percorso poetico è necessario che io vi presenti la persona con cui insomma ho cominciato a muovere i primi passi. Nel 2012 ho avuto l'incontro fortunato con questa meravigliosa donna, autrice, poetessa, nonché oggi presidente dell'Associazione Culturale Italiana Poeti ed Artisti a CPEA che ha fatto sì che io muovessi i primi passi. Grazie a lei è nato il mio primo libro, il mio primo esperimento letterario Rifioriranno le viole, targato anno 2013. La poesia per me è stato sempre uno strumento di denuncia sociale, una poesia impegnata che affronta i temi più scottanti della nostra società. Una poesia che veramente è un mezzo per esprimere tutta quella parte buona della nostra umanità. Oggi viviamo un inganno, ovvero sentiamo spesso dire che la società è morta, che l'umanità è morta, che i valori si sono estinti. Noi scriviamo per dire che c'è tutta una parte ancora sana della nostra società, ci sono dei valori che ancora pulsano. La nostra terra ha una moltitudine di poeti, di scrittori, di artisti che parlano di violenza sulle donne, che parlano della crisi economica, che, insomma, riescono con la loro scrittura oggi a portare alla luce quelli che sono i problemi più critici della nostra situazione odierna. Voglio far spendere appunto due parole a Lucia Gaeta, che vi può parlare sicuramente meglio di me, di tutte quelle che sono le sue iniziative. Buonasera, grazie Sofia che hai voluto che fossi insieme a te per questa intervista. Sì, effettivamente nasce nel 2012 questa amicizia che ormai dura nel tempo e con grande orgoglio devo dire che è stata anche la mia prima per la poetica, perché sono curatrice anche di libri poetici, quindi di sillogi. Lei è stata la prima, quindi il primo amore, come si suol dire. Con Sofia è nato subito un feeling perché molte cose ci accomunano. Anche io ero agli inizi, diciamo, agli albori di quello che poi oggi sono diventata, che molti mi conoscono, quindi come associazione, quindi come organizzatrice anche di eventi e di concorsi. E che dire, Sofia si è sempre distinta e lo dimostrano i tanti premi che prende puntualmente in tutte le manifestazioni dove si propone con la sua poesia. Tanto è vero che ci sono molti premi anche ricevuti proprio attraverso le nostre manifestazioni e soprattutto i nostri concorsi. Infatti quest'anno ha vinto con una poesia di un tema veramente scottante e sociale che era dedicato ad Angela Ferrara. Quindi ha vinto il premio Città di Atripalda. Si è distinta, veramente ha toccato un argomento che, ahimè, purtroppo mi tocca molto da vicino. E per quanto mi riguarda la scrittura resta sempre un grande mezzo per esprimere e soprattutto per liberarsi da quello che in effetti la donna oggi, ahimè, subisce in quanto alla violenza. Però si può rinascere, si può andare avanti, si può riemergere e un po' come la Fenice, io dico sempre, sono la testimonianza visibile di quello che può succedere attraverso la scrittura. Infatti per me è stata terapia, lo consiglio a tutti e ci siamo conosciuti anche per questo motivo insieme a Sofia e ne è venuto fuori anche un altro talento e con grande orgoglio fa parte insomma delle mie cerchie di amicizia e delle persone a cui voglio molto bene. Passati 11 anni da quel 2013, vorrei chiedervi qual è l'emozione nel provare una nuova produzione, un nuovo libro, un nuovo progetto, ecco, quindi sapere se siete mossa sempre dalla stessa emozione, dalla stessa grinda, voglia di fare. Allora, io penso che scrivere è una vocazione. Noi non siamo dotati di doti particolari o di abilità particolari. Io penso sempre che siamo come degli illuminati perché io non ho mai scritto nulla impegnandomi a scrivere. Sono state sempre delle illuminazioni fulmine, delle idee, degli spunti presi dalla mia terra, dalla vita quotidiana, dalle difficoltà degli ogni giorno. Noi non portiamo avanti l'idea di una poesia lontana da quella che è la realtà comune. Noi nelle nostre pubblicazioni parliamo di uomini e donne reali, di storie vissute, di tematiche odierne. Non siamo molto leggeri su questo, anzi, lo facciamo sempre con la stessa passione. E il riscontro che abbiamo è quello delle persone che poi alla fine, anche dopo un evento, si commuovono, si sentono toccati da quello che abbiamo scritto. Talvolta capita che li vediamo piangere, li vediamo immedesimarsi. Oppure ci dicono che magari siamo riusciti con le nostre parole a fotografare quella che è la loro storia personale. A tal proposito, un'altra cosa importante che vorrei raccontare è anche l'impegno, per esempio, del mio paese, di Altavilla Irpina, che è una terra sempre molto attenta alle tematiche sociali. Nel 2023, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un'altra donna meravigliosa, che è l'avvocato Rita Tirri, assessore della pubblica istruzione, mi ha chiesto in quell'occasione di scrivere, o di leggere, insomma, di dare il mio contributo alla manifestazione che fu organizzata. Per me è stata una circostanza molto fortunata, perché è nato un monologo teatrale che ha avuto un grandissimo riscontro, è stato premiato ad un concorso poetico di Napoli, classificandosi al primo posto, ha vinto il premio Città di Atripalda, che menzionava la nostra Lucia, e mi ha permesso veramente di poter parlare di un argomento che mi stava molto a cuore, inquadrandolo dal mio punto di vista. Il problema, o dirlo, non è solo la violenza sulle donne fisica. Noi abbiamo ancora una nicchia di pensiero che vede le donne ancora oggi colpevoli di quello che succede. Abbiamo quella parte malata della società che ancora incolpa le donne per la violenza degli uomini. Quindi mi è piaciuto raccontare il punto di vista di una donna che ha subito non solo la violenza fisica, che è quella evidente, ma anche la violenza psicologica, del giudizio, della calunnia, di quella parte, insomma, della cultura che ancora oggi ci giudica per il modo di vestire, per il modo di parlare, per il modo di esporci, che ci vorrebbe ancora veramente soggiogate da quella mentalità patriarcale che oggi non ha più ragione d'essere, perché la donna ha affermato la sua dignità sociale ed umana. Quindi questo monologo, aiutato a capo, che mi farebbe piacere leggervi, si è rivelato veramente non solo un ottimo lavoro, ma soprattutto un lavoro importante proprio dal punto di vista umano. Io in effetti sono anch'io, come diceva Sofia, nata da questo problema e ormai conoscendo bene questo tipo di situazioni che possono venire fuori dal nostro animo e quindi liberarci, io l'ho trovato attraverso la penna. Infatti i miei ultimi due lavori parlano prevalentemente della rinnovata violenza, sempre psicologica, grazie a Dio, però se ne viene fuori attraverso la scrittura. Io consiglio a tutti di scrivere, di mettere su carta i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri dolori, le proprie frustrazioni e solo così si diventa liberi. Sì, effettivamente io fossi in tela la leggerei perché è una poesia che rappresenta un po' noi tutte donne, quindi è stata molto bella, ha emozionato tantissimo la nostra giuria di quest'anno proprio perché era dedicata ad Angela Ferrara ed è stata vittima di femminicidio a sua volta. È stata a capo. Diceva di amarmi ed io ho creduto a questo amore, anche quando mi umiliava, mi picchiava e i miei occhi gonfi grondavano lacrime. Ogni volta era così. Dopo i calci e i pugni mi portava un mazzo di rose rosse, rosse come il sangue che mi cadeva dalle labbra. Ma lui mi amava, lo dicevano tutti, anche quando ho provato a confessare il mio tormento. Ho teso la mano, ancora tu me fatta, ma nessuno ha ascoltato il mio grido. Solo omertosi silenzi di annichilite coscienze, solo impietosi giudizi di menti mediocri che mi hanno lacerato molto più delle botte. Forse lo hai provocato troppo, in fondo uno schiaffo si può perdonare. Del resto, oggi, le donne hanno esato troppa gap. È solo protettivo, sei tu che pretendi troppa libertà. Sei una bella donna, ammettilo, in fondo ti piace farti guardare. Lui è solo un po' geloso, quel vestito, quel rossetto. E così ho capito che era meglio tacere, perché forse, in fondo, avevano ragione loro. Ero troppo indipendente, troppo insolente e forse, tra le righe, anche un po' puttana. Dico ero perché non sono più. L'uomo che mi amava, l'uomo protettivo, questa mattina mi ha ammazzato. Lo aveva detto tante volte, ma io non gli ho creduto. Nessuno gli ha creduto. L'ultima parola è stata sua. Io non ho avuto il tempo di parlare. Ho osato emettere solo qualche gemito. Anche stavolta io non ho parlato. Ma non gliene vogliate, per carità. Lui è un bravo ragazzo. La colpa è mia se mi ha assassinato. Perché io, in fondo, ha già esato troppa a capa. Perdonatemi per aver osato pretendere di vivere da donna. E adesso, voi tutte, ha esata a capa. Con questo splendido, diciamo, squarcio poetico, vorrei chiedere qual è il vostro futuro, cosa pensate, quali sono i vostri progetti, i vostri piani per i prossimi anni. Allora, innanzitutto, quello che ci auguriamo è di fare ancora tante cose belle insieme. Perché ci lega non solo una stima, una professionalità, ma anche una profonda amicizia. Diciamolo, diciamolo, diciamolo che sei stata ferma perché ha fatto una cosa bellissima. Ha fatto la mamma a tempo pieno. Quindi, se si è fermata, è stato solo per questo motivo. Ma noi la stiamo aspettando tutti, a braccia aperte, perché è un'ottima penna, è una grande mente, è una grande persona, è una grande poetessa. Quindi devi assolutamente ritornare in campo. Certo, diciamo, mi sono presa una lunga pausa. Dal 2013 al 2015, perché è morto il mio papà, proprio pochi mesi dopo che il mio primo libro è uscito. Lui ha fatto in tempo solo a partecipare ad una mia presentazione per poi ammalarsi. E siccome io credo che tantissime liriche nascono dal dolore, la morte del mio papà mi ha portato a scrivere tantissime poesie. Anche queste hanno avuto un grandissimo riscontro. Però ho avuto bisogno sicuramente di tempo per metabolizzare. Dopodiché la vita, penso, dosi sempre sapientemente luce d'ombra. Un'altra pausa l'ho fatta per un motivo bello, perché sono nati i miei figli, quindi mi sono dedicata completamente a loro. Però nel mentro ho sempre cercato di scrivere le mie piccole cose, che però fortunatamente hanno un po' riscontro. Io vi voglio ricordare veramente, non hanno bisogno di essere attenzionati. Gli acepeani, di cui spero di far parte a breve, perché fanno tantissime iniziative, è bellissimo, però io ve le voglio ricordare. Il premio San Valentino, che ormai è nazionale, internazionale, chiedo a Lucia di dare due accenni sul premio San Valentino, perché veramente merita. Al di là che io ho partecipato e ho vinto, però è un premio che ormai è come una calamita, attira le persone da tutto il mondo. Sì, effettivamente il premio San Valentino nasce quasi per una scommessa dedicata agli innamorati di tutto il mondo, perché adesso abbiamo anche una sezione internazionale. Quest'anno abbiamo festeggiato il decennale, con un grandissimo riscontro e successo, devo dire la verità, quasi non me l'aspettavo nemmeno io. Quindi proseguiremo su questa scia. Attualmente siamo con un altro concorso in essere, il concorso ai tuoi piedi dedicato alla Madonna di Montevergine, infatti a tema religioso, anzi colgo l'occasione per dire che chi vuole partecipare alla sezione sia lingue che vernacolo e arte a tema religioso, c'è tempo fino al 6 di luglio. La premiazione sarà proprio nell'Oreto, quindi ai piedi della Madonna. E poi abbiamo altre attività come il Poetour, che infatti quest'anno è in previsione Malta, Riccione, quindi già te lo dico, magari non si può mai sapere. Fate una vacanza anche voi. E vabbè, poi abbiamo la giornata calitrana, il 4 di agosto, già l'anticipo, e il 21 di luglio abbiamo il Memorial per Angela, Cristina e Gaetana sul Serinese, perché è una giornata importante, ricordiamo tre donne straordinarie che sono venute a mancare giovanissime, e quindi abbiamo dedicato a loro, infatti tu hai vinto in una edizione il secondo posto, è un concorso itinerante, quando i versi si fanno cielo, quindi dedicato a tutti gli angeli del paradiso. E poi tantissime iniziative che teniamo sempre in campo, insomma, facciamo tante cose belle, speriamo che ci seguite, insomma. e chiudiamo proprio con la poesia che vinse all'evento del Serinese dedicato a queste tre donne scomparse così prematuramente, una poesia dedicata al mio papà, che è presente in questa raccolta che vi volevo segnalare, perché è un lavoro di un altro grande protagonista del nostro scenario culturale che è Mauro Romano, che colgo l'occasione di salutare, sicuramente gli farà piacere, che mi ha coinvolto in quest'opera, un'antologia che si chiama Dieci in poesia, dove potete trovare le mie poesie accanto a quelle di altri dieci autori straordinari. E da qui estraiamo per salutarci questa poesia, così ho l'occasione di ricordare come sempre il mio papà. A mio padre, se tu fossi nel vento della sera e il tuo volto io rivedessi nel pallore della luna, se nel fruscio delle foglie udissi la tua voce e nel torpore della notte ritrovassi la mia pace, se potessi sfiorarti leggera le gote e la fronte dolente baciarti ancora, o se al suono di mille violini tu danzassi con me nell'aurora, se la brezza marina mi riportasse il tuo profumo e tu planassi felice con le rondini in volo, se tracce del tuo tempo mortale rimanessero impresse nell'universo, io amerei ogni esile segmento di questo immenso e asciugherei il mio panto alla fiamma inestinguibile del tempo. Ma dove sei? Alito di vento o filo d'erba, crisalide o rundine, perla di brina o fiore del campo, da me tu ritorna. A me non resta che ringraziare per la gentile partecipazione, sono state bravissime, veramente hanno fatto tutto loro, ottimo lavoro e non mi resta anche di complimentarmi, anche se ovviamente sono complimenti profani di un nessuno, però veramente per il talento, per la capacità di trasmettere un messaggio, un'idea, ecco, la poesia è soprattutto questo, voler esternare una parte della propria personalità, del proprio pensiero e donarlo agli altri anche per smuovere le coscienze, come abbiamo visto in quel bellissimo squalcio poetico che abbiamo letto prima, ecco, è un bel modo anche per fare un augurio a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi non solo al mondo poetico ma al mondo artistico in generale, ecco, un bel modo per magari canalizzare quelle che sono i propri talenti, scoprirli e lavorarci su, perché poi ovviamente ci sta molto lavoro, quindi lavorarci su e far uscire qualcosa di straordinario per il bene di tutti. Io vi ringrazio ancora una volta. Grazie.